Salve, ricordandovi sempre che sul mio blog thesmorseworld.blogspot.it siamo già arrivati ai puffi serie sempre marchiati Schlage vi presento questi tre codici sempre in gomma dura, dipinti a mano alti 5 cm cominciamo con il puffo surfista codice 2037 in questo caso la tavola da surf è in plastica dura volendo anche estraibile con un po' di forza ma non ne vedo l'utilità sinceramente un puffo molto simpatico in movimento con i piedi nudi poi abbiamo il 2038 il puffo contadino, anche lui ha un pezzo in plastica che sarebbe il rastrello cappello frastagliato non so se si vede grembiule verde e zoccoletti marroni poi per completare abbiamo la coffetta infermiera 2039 vi mostro le due varianti questa è la variante con grembiule celeste e la siringa con le con le tacchette rosse mentre invece questo è sempre lo stesso codice perché ve l'ho detto che i codici non cambiano col camice bianco e le tacchette sulla siringa blu vi ricordo anche che mi trovate su facebook come Michinesti e nel gruppo Smurfing in the world è un gruppo pubblico dove collezionisti, appassionati, curiosi possono porre domande e vedere le foto degli altri collezionisti delle collezioni che vengono postate non è un gruppo di vendita come non sono in vendita i puffi che vi faccio vedere sia in questo video che nei video precedenti mi trovate anche su twitter come sognatrice32 e su instagram come sognatrice14 quindi non esitate a condannarmi se avete qualche dubbio o qualche richiesta oppure rivolgetevi sul gruppo Smurfing in the world dove io e altri collezionisti sicuramente saremo ben felici di rispondervi vi ringrazio anche per aver visto questo video e vi aspetto al prossimo ciao a tutti